Il sabato pomeriggio Valentino viene accompagnato dalla madre, dallo psichiatra, proprio perché aveva avuto una forte crisi e aveva avuto un alterco con il padre. Lo psichiatra che lo aveva in cura prescrive un aumento dei farmaci. La domenica pomeriggio Valentino che stava dai cugini a vedere un film all'improvviso si alza e dice devo fare una cosa, torno subito e torna a casa perché aveva un impulso fortissimo a compiere un gesto violento nei confronti dei genitori. In quel caso c'era solo la madre a casa e la madre non è stata in grado di difendersi. C'era la convinzione dei giudici che non solo fosse pericoloso per gli altri, ma fosse perfettamente capace di intendere di volere nel momento in cui è commesso il fatto del gesto violento nei confronti della madre. È una convinzione che i giudici hanno acquisito senza aver disposto nessuna perizia, senza aver consultato nessuno specialista. Mentre a Pescara avevano diagnosticato un disturbo schizzoaffettivo di tipo bipolare, la psichiatra di San Vittore addirittura invece diagnostica un disturbo bipolare e dice ma è perfettamente compatibile con il regime carcerario, deve solo fare delle verifiche periodiche. A quel punto il parere viene rimesso un'altra volta al DAP, che dispone il trasferimento a Teramo, nella struttura di Teramo, dicendo a Teramo c'è la struttura psichiatrica specialistica e quindi c'è l'assistenza, deve essere eseguito, eccetera, eccetera. A noi non risulta che questa struttura ci fosse e ci sia. Gli stessi dirigenti del carcere di Teramo si lamentano, anche il personale, ci sono prese di posizione pubblica in cui dicono che continuano, vengono mandati ancora detenuti con particolari problemi psichiatrici e a Teramo sul presupposto che lì ci sia una struttura specialistica, il che non è vero. Anche qui il provvedimento del DAP è stato vitimato e validato dal GIP di Pescara. Quando noi, ancora una volta, quando era detenuto a Milano, abbiamo fatto l'ennesima istanza per ottenere che venisse trasferito ai domiciliari in una struttura regionale, una casa di cura e custodia, diciamo così. Ci sono qui in Abruzzo almeno due strutture sanitarie private dove persone con particolari problemi psichiatrici e per i quali va garantita anche la sicurezza, sono in grado di garantirle questi servizi. Noi purtroppo non abbiamo mai avuto notizia del fatto che a un certo punto Valentino aveva cominciato a rifiutare i farmaci. Noi questo l'abbiamo saputo dopo il 14 febbraio, quando Valentino si è gettato volontariamente dal letto a castello nella cella in cui stava. Solo allora abbiamo saputo che già da tempo minacciava il suicidio, era depresso, eccetera, eccetera, eccetera. Ho visto poi dalle carte che il 16 febbraio, quindi due giorni dopo il tentativo di suicidio, due giorni dopo il pubblico ministero aveva dato il parere positivo al trasferimento in OPG. Ci hanno detto subito che la diagnosi era quella di tetraplegia, quindi paralisi assoluta non solo dei quattro arti ma anche dell'apparato respiratorio, di tutte le funzioni vitali. Nonostante queste, nonostante avessimo portato i certificati medici, li ho portati io personalmente al GIP, Valentino è stato piantonato fin dopo l'intervento chirurgico, è stato piantonato. Il padre per andargli a fargli visita doveva andare prima al carcere, chiedere il permesso e poi andare a fargli visita in ospedale con gli orari e con le modalità delle visite carcerarie. Adesso c'è un fascicolo aperto presso la procura di Campobasso perché si ipotizza la responsabilità per l'omicidio colposo anche dei magistrati eventuali, quindi noi sosteniamo che c'è una catena di responsabilità dai magistrati che si sono occupati della cosa, ai medici, ad alcuni medici che hanno fatto delle diagnosi probabilmente sbagliate, al DAP e infine alla struttura carceraria che non ha adottato le misure minime di prevenzione.